e ciao ragazzi per te questo nuovo video, ciao ragazzi siamo rai su mario bus della allora ragazzi lo scorso bisogno di un sacco da da un sacco e non tornavamo ma comunque lo scorso avremmo usato tod e finiremo questo mondo con tod anzi mettiamo quello 1 per questa volta e nello scorso episodio eravamo arrivati a metà livello degli acqua frizzati ma oggi ragazzi lo finiremo comunque molti di quei pensavamo che io non ero io ma sono io anche perché sto registrando video nel computer e guardate adesso andiamo a livello ok sopra il mare dei pesci smac ok rega andiamo perché guardate questo qui è un controller della switch è cinese perché l'altro qui è troppo lungo come filo però comunque funziona bene io comunque ce l'ho con l'originale quello che è molto comodo perché si ricarica subito ok rega ok abbiamo subito yoshi ok non uso la musica per non avere il copyright magari metterò la musica bassa non lo so quando lo editerò lo sentirete allora secondo me non la metterò per te da qua l'originazione ok attenzione bene piano piano ok ok piano salta Yoshi vai vai Yoshi non metto qualcosa ok vedete ok ok avete visto aspettiamo ok qui abbiamo la stella siamo due no lascio il vieni qua ok sono riuscito a prenderlo no no bravo Yoshi così diciamo quasi fra un po' prendiamo il fuoco come power up più efficiente in questo livello del ghiaccio ok ok andiamo a prendere con le miele no non faccio prendere con la monica adesso no ce l'ho fatta oh ma ce l'ho fatta oh questo qui è il livello del power vero raga devo far veloce prima che la monica cade via veloce 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 ok l'abbiamo presa let's go perfetto andiamo ok siamo risbucati non so se voi sentite il rumore del controllo ma se lo sentite mi sa capire il vino no oppure no attenzione raga attenzione raga va bene comunque l'abbiamo finito yes fate bello quando lo vede ragazzi fa la sua cosa molto ok prossimo next level ragazzi next level no un pesce stelina vittorio non c'è rumore faccio io no è finita attenzione no non l'ho preso ok manca uno manca lui no cavolo ora raga siamo pure piccoli scena va bene andiamo in quest'altro scogli e ok acqua e frizzanti che direi che possiamo iniziare ok tanto cosa ok 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 allora così attenzione a questi cicciombi funghietto funghietto ok perfetto salta attenzione vai si grande attenzione no muori ok siamo diventati mini let's go yes è bellissimo quello di pros solo che ho Yoshi quindi no posso passare qui dentro devo fare attenzione mi sa che con lui mi sa che non è troppo grasso per passare vabbè faccio farlo senza di tutto tanto lì non va perché Riga fa così ma maraviglia io l'ho fatto ok ok allora salta però lo da sì no cavolo attenzione ok passiamo questo per meglio apriamo la vita ok attenzione raga attenzione ok ok ma non sapevo che non moriva non sapevo vabbè non fa niente ok giù 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 allora qua mi serve lui tiro giusto un tiro preciso ora ok perfetto vi ho fatto anche una vita corri giusto in tempo sento un pochettino grassotti a dieta no eh senza che lasciate stare ok facciamo un'altra vita si l'ho fatto un'altra benissimo ok attenzione 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 vai corri 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 si l'ho preso jump 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 ok rompilo allora passiamolo su ehi google metti la canzone di jingle pass puoi scegliere canzoni specifiche solo se hai una però forse può piacerti questa stazione radio ehi google stop va bene non ce la trova ok volevo un jingle bear e vabbè ci dobbiamo contentare no il virro raga questo è quello dove c'è dove c'è palla diciamo guardate io questo non ricordo a memoria ci soccano un gioco nello vivo questo gioco una volta oh oh puoi levare grazie grazie corri 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 no 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 non ci siamo capiti anguillone non lo so cosa però non ci siamo capiti nooo vai ok ok non stiamo andando male no 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 Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go No, non mi mordi le natiche Ok Abbiamo la bandiera Ok, non L'abbiamo lisciato, rega L'abbiamo lisciato No Attenzione Fuoco, fuoco, fuoco Chi vuoi livare dalle scatole Porche Sono solo io, ma non puoi mangiare Qualcun'altra Vabbè ragazzi Lo dico in accanto io Come uno lo vuole Dash in the snow You know I'm not so fast Oh, what's this video Ah, giusto, la posso mettere Ok, basta Allora Rega Vai via, vai via, vai via, vai via Aia ancora peggio spero i pesci viola raga nessuno li batte c'è nessuno nessuno no funziona nessuno nessuno shonos porca vaca chava shabawa solo lui ci riesce a fare la paniera in cima lui c'ha le zampe lunghe ma c'è la ricompensa vediamo cosa troviamo non fai detto voglio dire no ultimo livello il castello di Larry qua mi ricordo i nomi si vede che io sono un fan di super mario anche se io non volevo youtube mi ha messo nell'ultimo video di rocket league mi ha messo la copertina di super mario e super mario non si vede che a me mi piace l'amore di super mario no 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 non si vede però adesso la mia adesso raggio vediamo perché raga vogliamo andare anche a prendere la missione segreta poi con lui facilita ok andiamo daga ma tanto non mi fanno niente io posso camminare ok raga siamo arrivati alla parte allora dove è la missione missione segreta dovrebbe essere qua su no sono scivolato ok ce l'abbiamo fatta perfetto raga ce l'abbiamo fatta tengo le cuffie perché tanto servono per la switch ok bene bandiera rossa a noi yes ok ragazzi eccola qua cantiamo questo questo rumore del cantone pensate faccio così e beh cambiamo per smaggio mettiamo bene ragazzi ho scelto tutet diventiamo la pitch e posso mandare la pitch ho detta che vergogna pitch non so parlare l'italiano va bene perché perché ragazzi la pitch è come avere la ghianda praticamente perché è plana quindi cioè anche se io non l'ho mai usata mi ricordo male perché passano tanto tempo non mi ricordo se l'ho già usata prima ah raga no battiamo questo livello tango ok ok no quello ok salta salta ok e non parliamo l'ultimo non fa niente di buona non la parliamo l'ultima riga ok raga salta grazie mille foglia se no andavo conto cattivissimo scogliattolo scusate per la pitch ho fatto questa voce scusate non mi scrivete nei commenti di instagram imbecille perché lo so che questa frase era un pochettino da imbecille però imbecille non dice basta perché perché dico sempre imbecille basta allora piano sì ma così mi piaci salta ma perché salta ma perché lui salta ma perché perché ho detto lui ma perché lei salta 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 più su che puoi salta più su che puoi ho dimenticato una buona e vanno a correre da prendere subito non vi preoccupate ragazzi non vi preoccupate ragazzi aiuto la mia ok abbiamo sbloccato la torre del fagiolo fagiolo oh fagiolo quello ok siamo tornati qua la moneta era dietro una nuvola che non ho visto ok eccoci qua abbiamo interadieto con la nula l'avete vista tutti in sto giro abbiamo anche un pari di numeri quindi un altro il funghetto dai l'ho avuto prima oh il fungo mini bene per un livello mi sa che ci potrebbe servire se non sbaglio non me lo ricordo però mi sa di sì ah sì per il livello della giungla cassata però ancora noi non siamo nella giungla cassata quindi ce lo conserviamo se non mi serve niente occasione bene andiamo al boss solo quello ci rimane ah una cosa ragazzi mi scusero già detto in personale perché ma i ruboni ti prenderò alla fine perché non non mi interessa allora ragazzi l'ho appena così mori oh io ragazzi so che non lo voglio dire ma non non sconfitti due di fila vedete che sono imbecile eh imbecile imbecile scusate scusate se lo dico un sacco di volte sono un imbe le va bene giro l'ho censurata fatto bene anche se non è una barraccia imbecile le eh oh ci ho censurato l'altro va bene allora qua abbiamo il funghetto ok allora qua abbiamo questo ho mangiato la mia ok vediamo cosa mi ha impagato due funghetti ragazzi poi non mi faccio lì ok sì chavo di voce ho fatto perdonatemi anche se la funghetta è massima almeno abbiamo qualcosa che potrebbe essere utile a tutti i momenti che stavamo aspettando tutto il castello di castello torpediniere cosa vuol dire torpediniere ok che buorissimo dettagli super mario stavo giapponesi in questoо cazzo ok anche se l'aka se non cambia niente, cambia il filo, però non c'è questo. E mi brucio le chiappe! Attenzione, attenzione, attenzione. Se a me brucio il testone, che sono tra le volte più grandi nelle mie naviche. Testone grandi, non so perché è così grande, non so cosa c'è del giorno in bottitura, non so. Lo di in bottitura perché prima ho comprato un giubbotto e la fila della gente. Salve. Perchè oggi sono scemo? Perchè? 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 Come mi sono svegliato? Perchè? Perchè oggi sono un imbe? L'ho detto un'altra volta! Vabbè, tanto lo censuro. Non è che lo posso dire sempre. Venga, non è una parolaccia, ma dopo non imparo a dire sempre... Vai, intanto che faccio lo scemo morite. Ok, attenzione che qui è un babbiero dei razzi. Ma però giusto un po' ragazzi, giusto un po'. Almeno non sono quelle rosse che ci inseguono. È già qualcosa. Prima. Detta. Non è male che torde in basso. Consolverso. Oddio! Corcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcor! ì! Oh ragazzi adesso non lo taglio più il pulsante perchè dovete sentire come scappa. lo sentite che non è che posso scappare spaccati con la cibola ok adesso non lo sape oh dio scusate allora quattro del munini le fiamme l'amore il fuorio dell'amore ragazzi sto diventando sempre più imbecille per fare queste cose ma basta più l'altra volta questo giro non l'ho censurata lo so già che non lo censurano basta giuro che ragazzi lo smetto di dire imbecile e lo sto giro a censurare perché non devo dire più imbecile va bene basta non lo dico più sto diventando una noia tutte le volte questa parola ti un imbecile ma basta vai ah aiuto Orlando ha fatto uno sbattillo i dueака il call abbiamo mancato una moneta me l'ho dimenticato è vero che ero qui ragazzi no no assolutamente ho guardato un video per ricordarmi non assolutamente ho guardato su google no 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 se vi dico anche ho guardato su google ma allora ragazzi attenzione attenzione ragazzi come no non mi sono mai chiesto se riesco a mangiare solamente il colore non mi sono mai chiesto che non mi sono mai chiesto che siamo barboni ragazzi per la gente fa così barboni barboni che mi prende aiuto barboni no ragazzi stiamo pro appena ho parlato siamo pro una coincidenza una coincidenza no la quattrolla no la quattrolla no la quattrolla lui se non sbaglio dovrebbe salire di qua bespaun bespaun lo ho riusciato una botta di cu l'ho avuta io ragazzi io ragazzi questa parola c'è le censuro ma di realtà non mi fico cioè quella parola imbe le cioè quando c'è su lo dico imbe le genio infatti questa volta ho detto ma comunque ragazzi spero anche ragazzi questo video che vi sia piaciuto io vi sono divertito che tornando su questo magnifico gioco se voi volete che ritorno ritorno ma voi ragazzi che scelta mi sembra voi ragazzi ma voi ragazzi io spero che passate una buona serata sì perché sono le 11 però questo è un altro discorso è sabato sera sapete e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se non vi sia un commento se vi dovete dire qualcosa però su Instagram perché poi mi disattivo a youtube e i commenti non sono io e niente io ragazzi vi saluto e noi ragazzi ci vediamo la prossima volta ciao ragazzi vedendo me ciao 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 ciao